Salve a tutti. Allora, ho avuto un po' di giorni in cui sono stato assente, ma ragazzi è stata, siamo in ferie. C'è una domanda che mi ha fatto il comastro, mi ha chiesto cosa ne pensi delle disegna stiletto. Allora, le ho viste, non le ho mai prese in mano. Sono frecce lunghe e hanno una forma strana, quindi non lo so, cioè, non so per quale motivo ti piacciono, però sono frecce un po' particolari che bisogna vedere se possono andare bene o meno, perché sono una forma classica, diciamo. Per chi non le ha viste, praticamente sono quasi a punta davanti, no? Una freccia simile qua, o tipo questa, è tipo questa, solo che il corpo qua è dritto e poi va giù a punta. Però sono frecce lunghe, perché sono da 54, quindi non lo so, perché lì bisogna mettere, però provate, non lo so, provate io o no? Mai, mai che mai viste. Poi, Daniele mi ha chiesto delle frecce della Quantum, della Arrows, mi sembra, da Soft, da 18, l'ho visto, praticamente sono da 45, sono spesso, praticamente sono come queste, o come quelle di Van Gerwen, perché questa qua è 45, il tubo dritto, ha una bella forma, se ti piace, ha una bella freccia quella lì. Ha un bel disegno, è anche bella da vedere. Penso che sia una buona freccia, non l'ho provata neanche questa, ma dietro le misure che ha, perché lo spessore di 7, lunga 45, mi sembra una buona freccia, una freccia che può andare bene in ogni modo, presumo. E' importante, una cosa importante che, se voi avete una freccia che, in cui vi trovate bene, misuratela, cioè misurate il corpo, questa parte qua, e ve lo tenete segnato. Cioè, quella freccia, tipo io con le Van Gerwen da 45 mi trovo bene, ho preso quella da Steel da 45, che ha la stessa forma, solo che ha preso a 24 questa. Però, no, se vi trovate bene con 45, o 54, o 52, quello che è, pensateci a questo. E anche lo spessore, perché se lo spessore è 6,40, e dopo imprendete uno da 7, a livello di percezione di dita, cambia molto, eh. Quindi, state attenti a queste due cose qua, quando scegliamo un paio di frecce, è importante. Salute a tutti.